Sono stati tra i primi a correre sul luogo dell'incidente e i primi a rendersi conto dell'immane tragedia che si era appena consumata a Monteforto Irpino, sotto il viadotto della 16, e i primi a soccorrere i feriti. I ragazzi di questo paese in provincia di Avellino hanno organizzato una serata per raccogliere fondi per le famiglie delle vittime. Migliaia di euro, una cifra piccola ma di grandissimo valore. Ci siamo sentiti di ricordare queste persone con una manifestazione, perché i pianti ce ne sono stati tanti, ma per aiutare queste persone non dobbiamo aiutarle a piantere, dobbiamo stare vicini e cercare di creare un'unica famiglia, anche con loro, perché ormai fanno parte di noi. È stato da un lato una sensazione bellissima, anche se può sembrare un paradosso, perché i bimbi, tra cui Arianna, che si sono salvati e sono ancora tutt'oggi vivi, è stata sicuramente qualcosa che dall'alto ci ha dato la forza, mi ha dato la forza di aiutarle. Fondi, quelli dei ragazzi di Monteforte Irpino, che si andranno ad unire con altro denaro in arrivo in queste ore da ogni parte d'Italia. Soldi che saranno utilizzati un po' per aiutare le famiglie ad affrontare le spese di questi giorni drammatici, un po' per i giovani rimasti orfani. Per creare una possibilità di lavoro e quindi creare quei presupposti e quei fondamenti per poterli accompagnare ad un percorso lavorativo.